Buongiorno! Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video nel nostro canale. Vieni amore, vieni a salutare. Attento a non muovere molto amore. Sei tutto sconvolto sai mamma, vedi i capelli? Ti sei tolto l'elastico? Perché avevi l'elastico in testa. Sembra un vero leone. È vero, sembri un vero leone, giusto? Allora mamma, facciamo vedere questo svuotato a spesa. Oh ma guarda, adesso si trasforma. Vediamo. Adesso sei tornato normale, il mio cino. È vero, tapino? Attento mamma, attento, ancora cade il telefono. Va bene, bambino. Allora, noi siamo state all'Eurospin, come tutti i sabati. Facciamo il video della svuotata a spesa. Guardate che carmella. Che carmella. Aspetta, ora te lo dico. Eh, guardate che scontrino, lungo lungo. Vabbè, la spesa online è più qualche cosa. Dove? L'acqua. L'acqua nel frigo, penso. Ok, facciamo vedere un attimo queste cose. Vuoi l'acqua? È bello della diretta. Allora, l'hai trovata? I bicchieri, però, mi sa che stanno fuori, amore. Ah, mi vuoi. Eh, sì. Scusate. Qual è l'acqua che facciamo i frullati, comunque? Non lo vedete l'acqua, papà. Perché stiamo saliendo. Vai fuori, vai a bere, dai. Prendi il bicchiere. Oppure vieni, vai fuori a prendere il bicchiere e mamma te lo dà, dai. Oggi stiamo dentro, perché fuori fa troppo, troppo caldo. Infatti, ogni volta è un trasloco. Abbiamo le cose a doppio, però, che ne so, il portabicchieri, cioè, quello lo teniamo fuori. Va bene. Allora, intanto vi faccio vedere questa cosa, perché i gelati, perché se no li devo mettere in frigo. Soprattutto questo, perché gli altri li ho messo. Ho preso questa, la viennetta. Questa al cioccolato, tipo viennetta, però qua si chiama tronchetto al cioccolato e vaniglia. Perché domani vengono degli amici a pranzo e quindi noi gli offriamo questo come dolce. Vabbè, poi ci sono i gelati, di tutto del tutto. Domani facciamo un bel menu a base di pesce. Vabbè, ci sembra base di pesce in noi l'estate. Pesce, ok. Non che io, Anna, tantissimo la carne. Mi perdonate se lo metto un attimo in presa, perché non vorrei che si scioglie. Stai qua tu, mammina? Tanto è più proprio. Dicolo qui. E lo appoggiamo. Perfetto. Poi, 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 poi. Eccoci qua. Abbiamo preso questi, che erano in offerta, credo, 1,99 euro. Questi gelati, come si chiamano, topolino? Sì, biscotti. Biscotti trigusto? Un tronchetto. Non riesco a vederlo. Biscotti trigo, sì, 1,99 euro, perché questi, come tantissime altre cose, sono aumentati. E quindi, ho preso, prendiamo solo i gelati in offerta. Questi sono i mini stecchi, otto mini stecchi assortiti, mamma. Sono come quelli che ti mangi tu, però sono piccolini ed è meglio piccolini. È vero che non tutti quei gelati. Perché te lo vuoi mangiare due, due, è paragonabile a uno, almeno. Penso. Apriamo sempre la nostra borsa frigo. Sì, otto. Ok. Otto, sì, certo, amore. Vediamo. E li ho messi qua fuori? Sì. No, li ho messi qua dentro, amore. Perché? Vieni qua. E dai, amore, dopo li prendi, dai. Allora, facciamo vedere che abbiamo preso questo qua della linea portami via. Le polpettine che oggi Lione si mangerà per pranzo, perché mamma lavora dopo, quindi dobbiamo fare sempre i pasti veloci fino ai settimane. Ma perché? Ma domani si rifà con un bel risotto ai frutti di mare, vero mamma? Sì, ma perché? Amore, dai, non muovere tutto. Papà lavora. Ah, perché tutti i sabati papà lavora? Ma non è solo tutti i sabati, tu dici la sera. Vagliela a dire a papà, però, purtroppo, mamma, bisogna lavorare. Sennò, ma come facciamo a fare la spesa? Allora, poi ho preso per Lione la merenda, tipo la bici della merenda, dell'Eurospin. Questa se la porta al campo estivo, gli piace tanto. Poi ho preso questi per domani, anche come antipasti, aperitivi. Bocconcini di scamorza fumicata, che sono attaccati praticamente tutti quanti, però, domani li sappiamo. Ho preso due confezioni di prosciutto crudo, così domani facciamo prosciutto crudo e melone. Facciamo anche l'antipasto. Ok, amore. Chi ti ha detto papà? Il lavoro. Eh? Eh, di sabati. Eh? Ti ha piaciuto la merenda. Certo. Poi abbiamo preso il salmone norvegese, che a me piace tantissimo. E sto prendendo questo, anche se è aumentato, ma gli altri non è che mi fanno impazzire mettere questo sì. C'è una popolazione a vostra dipendente. Sì, ho preso due di queste burrata, non le prendo quasi mai, preferisco prenderle dal caseificio in realtà, però ho detto, meh, col secchiere di luna, proviamo. Perché tanto poi latticini da Eurospin non sono male, eh, ciliegine e mozzarella, di mozzarella, questi ne ho presi due, dovrebbe stata per l'altra parte l'altro. Ah, non ho preso le patricioni di paprika. Eccola qua. Sì, amore, sì. Sì, ma proviamola. Un attimo. E vado a prendere, dai, se la vuoi prendere. Della linea Protein Q, 18 grammi di proteine per vaschezza, wow. Questi qua, i miei fiocchi di latte, che mi piacciono tanto. E sono anche più buoni questi di quelli normali. Almeno mi piace. 99 centesimi. Poi ho preso questo qua, che da fettare mi piace assai, poi diventa morbido, morbido, buono. Ho preso anche altri formaggi, ce l'ho anche. Però diciamo che questo qua mi piace, poi i bambini li piace, facciamo a rondelle, senza lattosio. Formaggio. E ho preso una confezione che si è scacazzata, Dion, di sushi, che a me non fa, Dion, è bassa. A lei non fa impazzire. Però lo prendiamo. Devi fare casino? No. E allora? Ah, ci sono pure le salse dentro, wow. Proviamo comunque. Ripeto, non mi fa impazzire a me il sushi. Però domani lo metto al centro, sempre come antipasto. Non voglio far ripartire. Mi dai una patatina? Non posso, però ho fame. Allora, questo stavo nella borsa a frigo. Grazie a me il panco. Sì, amore, una patatina. Vado, enormi sono. Amore, facciamo vedere. Prima di andare all'orfinno, la mamma stava lavorando. Tu, con che sei andato con papà, dove? Dove sei andato con papà? Allora, c'è andato a capire la frutta. La frutta per la nonna. E abbiamo comprato noi questa previ la testa. Madonna, sta correndo tutto. Aiutami. Sta passando tutto. È un istomare. Ma c'è anche il salmone, amore. C'è da tartare di salmone. Ma perché l'ha messo così? Ma che casino. Cioè, prendi qualcosa. Amore, immagino. Questa è un combinato. Cioè, boh, ragione. Allucinante. Di solito prendono le due buste. Non posso toccare più niente. Perché mi si è bagnata tutta la mano di pesce. No, vabbè. Lione è sparito. Amore, mi vai a prendere un po' di carta? Il bello della diretta. Lione, vieni a fare lo svuotare a spese. Avevamo a prendere un po' di carta. Dai. Vabbè, con una mano. Vi faccio vedere. Due panini per gli ognini. Ho preso due confezioni di filoncini. Quelli che prendiamo non sempre con i cereali. Poi, una bustata di limoni. Per favore. Eh, uno? Mamma, si deve pulire. Deve pulire anche qua. Mamma, prendo il rotolo di tarta. Forza da fuori. Papà, vi è andato a finire? Allora. Poi. Poi. Ho detto i limoni. Qui c'era l'altro pane. Ho preso un avocado che per fortuna è morbido. Quindi domani possiamo già utilizzarlo. Lo rimetto in cartone. Senza zuccheri aggiunti, succo di ananas. Ho preso un po' di succhi. Bianna, vieni qui. Ho preso un po' di succo. Questo è ananas soltanto. Va bene, dopo non avrei gelato. Frutta più pesca e mango. Ah, sì, è verde. No. E allora stai con noi. Frutta più, ananas e cocco. Questi hanno la gocina di latte anche. Toglimi le mani sporche di patatine. Devi andare papà fuori a farlo. Vai da papà. Mamma sta facendo lo svuoto alla spesa. E niente. Quindi quelli. Adesso mi vado a mettere il frigo. Ho preso due balle di acqua. Quelle tipo la Sant'Anna. Ho preso una. Perdonatemi se non lo faccio vedere. Perché è una confezione da 5 litri. Di candeggina. Per pulire fuori la veranda. Poi ho preso questa confezione di piadina alla riminese. Con olio. Traverso il mio d'ora. Poi, poi, poi. Vabbè, perché ti ho messo dentro a te? Vai a papà, amore. Ah, vieni immediatamente dentro. Vai, vai. Perché? Vai, vai. Poi, poi, poi. Ho preso. Ma, entra dentro. I rotoloni. Questi qua. Uno, due, tre, quattro. Però in più ho preso anche questi. Della linea Amo Essere. Che sono tovaglioli. Già tagliati. Così, così. Domani li mettiamo sulla tavola. Vieni qua, amore. Vieni di qua. Vieni. Prendi mamma, aiutami a prendere le cose, dai. Allora, questi mi sa che ne abbiamo presi due. Confezione di spaghetti. Dove stanno gli altri? Che cosa è, mamma? Perché ti sei spaventato? C'era questa cosa che ci manca qui. Non so. Non so. Non so. Non so. Ecco qua, una seconda di spaghetti alla chitarra. Poi, questo. Le mezze penne. Un po' di pasta per le on. E... Mi pare che ci erano finiti, in realtà. I... Come si chiamano questi? Le buste per la spazzatura. Eh? E questo che mi stava finendo. 50 metri di pellicola. Amore, sono finito tutto. Non so. Non so la spesa. E allora dobbiamo salutare. E dobbiamo dire che ci vediamo domani. Dobbiamo vedere che ci vediamo a capo estivo. Eh sì, a capo estivo. E quelli li dobbiamo mettere adesso nel frigo, mamma. Se no, si fanno brutti. Abbiamo portato merenda di focaccia a capo estivo. Amore, toglimi le mani da addosso. Perché tu hai le mani sporche di patatine. Ma insomma, non si mettono le mani addosso. Devi finire di mangiare le patatine e ti devi lavare le mani. Dopo puoi toccare. Capito? Vieni qua. Allora, toglimi le mani da addosso. Che hai detto, mamma? Io ti ho detto vieni qua. Non ho detto metti le mani addosso. Quando sono pulite. Quando sono pulite, sì. Che la deve fare, sa vita? Chi? Non lo so. Va bene. Allora, stavi dicendo. Domani, sì. Ci vediamo domani. Al prossimo video. Che cosa facciamo domani? Facciamo un video in piscina con i nostri amici? Sono altri. Non sono quelli dell'altra volta. Perché quelli erano più amici di mia sorella. Comunque conosciamo anche noi. Però sono molto più amici di loro. Si frequentano loro. Invece domani vengono proprio gli amici nostri di mamma e papà che vivono a Mestre e che quindi stanno qua in vacanza perché sono di Bari, però vivono a Mestre. E quindi domani facciamo un pranzetto insieme. E quindi domani facciamo un pranzetto insieme. Va bene amore? Allora ci vediamo domani. Mi sta preparando papà che cosa vuoi da me? Io sto facendo una cosa e papà sta facendo un'altra. Capito? Tu devi essere calmo. Non devi avere ansia. Cucinare le buone fette. Dai, saluta. Ciao. Ciao a tutti. Noi andiamo a fare pranzo. Andiamo a fare pranzo. Ci vediamo al prossimo video. Ci vediamo al prossimo video.